Di questo uomo, prima ancora che di Papa e adesso di Santo, che ha cambiato il mondo. Io da tanti anni vado in Polonia, sono legato a quel paese e quindi ho potuto scoprire ancora di più la realtà di quel popolo e di questo Papa poi, che in questi giorni ne stanno parlando tutti, tutti sono diventati amici, tutti lo conoscevano, tutti lo accompagnavano, ma credo che proprio non fosse così. Ecco, questo è uno dei motivi principali, poi lei ha detto che ha esteso anche l'invito ai polacchi, quelli che qui non se ne vedono, una polacca c'è perché io la conosco, è Camilla, non so se sono degli altri, però una c'è. Siamo molto contenti, lei rappresenta tutti, ma ci vorremmo avere una presentazione anche solo per i polacchi.